Divertimento, emozioni per tutta la famiglia e il mondo delle quattro ruote, assieme alla cultura della sicurezza stradale, si incontrano nel BMW Family & Kids Tour, presso Unica, concessionaria BMW e Mini a Trani, della Maldarizzi Automotive Group. Il marchio BMW, ma soprattutto il gruppo Maldarizzi, incontrano i più piccoli. Quanto è importante la sicurezza stradale insegnata a queste teneretà? E' un tema molto importante per il gruppo Maldarizzi, motivo per il quale abbiamo deciso di dedicare questa giornata ai più piccoli, informazione, sicurezza e prevenzione stradale. Dedicare a loro un'intera giornata, mettendo a disposizione tutti gli spazi della nostra concessionaria, facendoli diventare per un giorno protagonisti di guida con delle mini vetture BMW, è sicuramente il segnale di quanto siamo attenti a questo tema. E quello che stiamo facendo credo che sia, con un po' di orgoglio, sicuramente una grande dimostrazione. Comandante, quanto è importante l'apporto dei vigili in questa manifestazione? Allora, innanzitutto è stata una donna di iniziativa e il nostro apporto può essere utile nella misura della sicurezza stradale. Soprattutto in questo momento dove il numero degli incidenti stradali spesso risultano essere alti e con conseguenze dannose, rileviamo parecchi incidenti purtroppo mortali. E in questo momento la presenza, soprattutto a tecchire il territorio, soprattutto nei bambini e anche negli adolescenti, attraverso questa strumentazione che ha messo a disposizione la struttura e in particolare fargli provare i percorsi, fargli conoscere già le regole sulla sicurezza stradale, è sicuramente elevata. Come Polizia Municipale il nostro intendimento è quello di dare supporto a queste manifestazioni, anzi essere anche con loro promotori, perché proprio entrando in diretto contatto con gli adolescenti, con i bambini, nel far conoscere le regole sulla sicurezza si tenderà sicuramente a mirare ad avere una minore presenza di sinistri stradali. Naturalmente quando si parla di sicurezza stradale l'ACI non può che essere comunque presente, giusto? Beh sì certo, è il nostro core business, noi puntiamo tutto sulla sicurezza stradale, quindi dovremmo esserci per forza. La sicurezza stradale è un aspetto importante fin da piccoli, ma quanto è importante invece il ruolo dell'istituzione? Ma è senz'altro importantissimo il ruolo delle istituzioni perché devono accompagnare, sostenere iniziative come quelle che si stanno svolgendo questa mattina, perché l'educazione, la sensibilizzazione, la formazione dei ragazzi sin dalla piccola età rispetto ai percorsi di educazione stradale è fondamentale. Soprattutto perché oggi purtroppo ci sono abitudini e stili di vita che inducono tutti quanti magari all'utilizzo di sostanze alcoliche o all'utilizzo di altre sostanze. Allora l'educazione, la sensibilizzazione stradale invece oltre all'educazione rispetto a queste abitudini e stili di vita è fondamentale perché serve ad una disciplina. Una comunità si caratterizza per una serie di regole e quindi di discipline che vigono all'interno delle stesse comunità e quindi degli stessi territori. Se si aiutano e si abitano i ragazzi sin dalla piccolissima età, quindi quando si formano da un punto di vista della mentalità, dell'educazione e della formazione, a rispettare le regole e le regole stradali vanno rispettate è fondamentale perché non solo si accresce la sicurezza ma soprattutto credo che se ne rinvenga un beneficio per l'intera collettività.